A come avventura, B come bravura, C è come un cane che abbaiava sempre l'A, D come diamante, E come elefante, F è un bel fiore che sul prato nascerà, per G c'è tanta gente, per H non c'è niente, immediatamente alla L siamo già, M come mare, N come nave, sulla quale saliremo tutti quanti per partire.